Gli utenti turchi da stamattina non possono accedere a Wikipedia e all'enciclopedia partecipativa online. Gli internauti che provano a connettersi ricevono un messaggio di errore per timeout al server e questo sarebbe coerente con i filtri messi solitamente in pratica dal governo turco per censurare i contenuti di internet, secondo Tarki Blocks, un organismo di monitoraggio della rete. Il blocco è avvenuto in seguito a una decisione amministrativa dell'autorità turca per le tecnologie di informazione e comunicazione, un'ordinanza che solitamente precede di poco la decisione di un giudice. L'ordinanza fa riferimento alla legge 5761, che è quella che regola internet ma definisce in modo piuttosto generico i possibili crimini in rete e al momento non è chiaro quale sia l'accusa specifica. In passato si erano registrati blocchi totali o parziali anche di alcuni social network, ma il governo aveva smentito di aver ordinato blocchi, giustificando il tutto con possibili picchi di utenti che avrebbero ralentato i server.